Presente una firma importante, quella di oggi con l'Agenzia delle Dogane, lei dice anche non soltanto per creare sinergia, ma anche per agevolare ancora di più le imprese del territorio verso l'internazionalizzazione. Sì, questa è un'attività importante su tutto il territorio della Puglia, un protocollo che prevede una collaborazione tra privato e pubblico, che serve nel tema della semplificazione delle nostre imprese che devono fare sistema e che devono lavorare sull'internazionalizzazione. L'import-export è una di quelle attività fondamentali per le nostre aziende, quindi noi dobbiamo essere in grado di riuscire a interpretare al meglio le normative e dare regole certe, con un particolare attenzione anche a situazioni come la portualità, le ZES, le zone economicamente speciali che in questo momento rappresentano per le nostre aziende un'ulteriore chance di sviluppo. È un protocollo improntato proprio all'approfondimento di alcuni temi in termini ovviamente di rapporti con le aziende, di autorizzazioni all'export, all'import e quindi diciamo si tratta di dare conoscenza delle normative nella loro interpretazione autentica per evitare che le nostre imprese possano incorrere in sanzioni o in provvedimenti che rallentino la loro operatività. Quindi è una collaborazione che deve servire a favorire il corretto sviluppo imprenditoriale senza incorrere in situazioni di difficoltà. L'obiettivo è quello di consentire su tutto il territorio pugliese di avere uno scambio continuo con gli operatori da parte dell'amministrazione doganale per favorire chiaramente la migliore comprensione delle disposizioni vigenti che noi applichiamo, a volte un po' complesse, ma ripeto noi applichiamo disposizioni unionali e quindi di favorire l'attività import-export e gli scambi internazionali degli operatori. Si parla di scambi quindi ovviamente è logico fare riferimento al porto di Bari. Lei ha detto come agenzia delle dogane sul porto di Bari stiamo avviando questo progetto pilota. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto che verte a modernizzare le procedure digitalizzando l'attività del porto e quindi consentendo una maggiore velocità delle attività doganali in materia di controllo e questo chiaramente passa per un discorso sia di tipo di informatico che anche strutturale e quindi noi stiamo lavorando a questo progetto insieme all'autorità portuale del Levante qui a Bari. Perché il porto di Bari in questa logica è un porto in sviluppo e quindi come tale l'agenzia ha deciso di investire anche sulla base del traffico che nel quadrante sud è stato rilevato quindi l'investimento è stato fatto in questo senso e sono convinto che porterà dei grandi risultati.